Ragazzi, girami pure a me però, buonasera popolo, siamo a partire la festa di Santino, vieni un attimo qua, vieni un attimo vicino a me, un secondo, un secondo, buonasera popolo, buonasera popolo di Facebook, abbiamo questa ragazza a 50 anni, ma gli saluto a tutti gli invitati che sono venuti. Grazie a tutti, ben saluto alla mia festa, grazie. Facciamo una cosa, io a Santino, una cosa a Santino, ragazzi, grazie a Santino, bravissimo, guarda anche tutti gli invitati, guarda gli invitati, il popolo, ragazzi, ballate, viva la gioventù, vai, viva le donne, a un po' passato, a un po' di capito. Maia, raccetti da ragazzi. Grazie!